Quanto calcio, quanto calcio, quanto calcio e che spettacolo, che spettacolo, che spettacolo ragazzi le nostre tre italiane che scendono in Champions League e devo dire che c'ho veramente un botto, un botto di robe da dirvi mettetevi comodi veramente raga, mettetevi comodi perché oggi parliamo a ruota libera e ci prendiamo tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per parlare delle tre gare, delle tre italiane che abbiamo visto oggi in UEFA Champions League partendo dall'Atalanta che gioca per prima, quindi Liverpool-Bologna e infine ragazzi l'Ipsia-Juve ma che cosa abbiamo visto per l'Ipsia-Juve, clamoroso quello che abbiamo visto per l'Ipsia-Juventus ma ci arriviamo, ci arriviamo, partiamo dall'Atalanta, si gioca Gelsenkirchen perché sapete bene che comunque lo Shakhtar non può giocare in Ucraina quindi si gioca o in Germania o in Polonia, lo Shakhtar gioca in Germania, gioca Gelsenkirchen, l'Atalanta strapazza lo Shakhtar finisce 0-3, un'Atalanta bella da vedere, un'Atalanta straripante, un'Atalanta divertente che gli fa due gol, prende due pali ma poteva farne anche diversi più di gol, poteva tranquillamente vincerla a spasso questa partita parliamoci chiaro, l'Atalanta è molto più forte dello Shakhtar e devo dire che insomma abbiamo visto settimana scorsa che il Bologna non è andato oltre il pareggio, anzi due settimane fa contro la compagina Ucraina ci sta che il Bologna ci pareggi, l'Atalanta è molto più forte, quindi la vittoria dell'Atalanta ci stava poi ripeto è un campo neutro, quindi manco a dire che lo Shakhtar c'ha lo stadio dalla sua, gioca in casa, non fa una trasferta no, lo Shakhtar è sempre in trasferta quando si tratta di Europa, quindi non è una situazione positiva per niente detto questo dicevo un'Atalanta molto forte che avrà qualche strascico perché comunque si sono fatti male sia Jim City che Kossonu Gasperini con i difensori, c'è una sfiga che non finisce mai, sono anni che gli si rompono tutti tanto che lo scorso anno ha fatto tutto il girone di ritorno con Deron titolare da difensore e poi molto spesso quest'anno si è partiti con Deron dietro e Ruggeri, cioè Deron proprio centrale e Ruggeri che è un esterno, un quinto da braccetto, quindi l'Atalanta i difensori proprio non li aveva ma perché sono sempre tutti rotti, clamoroso, anche stavolta gli va in quella direzione lì e si fanno ancora male detto questo l'Atalanta vince e convince, vi dicevo, Luckman ragazzi davvero fenomenale Luckman giocatore clamoroso, clamoroso calciatore che sarebbe capace di mandare al gol anche me il che è un tutto dire, quando quest'anno ho fatto il video in cui parlavo dei marcatori ho detto per me Luckman andrà via a gennaio per come si è lasciato e non è riuscito a trovare squadra con Gasperini e invece è stato reintegrato e diverte che è una cosa assurda, che è veramente una cosa assurda poi aggiungeteci anche che vicino c'è un Samarzic che se diciamo trova le partite sue quella di stasera era una partita, quella di gioveriggio, perdonatemi, era una partita sua cioè una partita in cui si poteva divertire, sale in cattedra ed è un altro paio di maniche ed è un altro paio di maniche, al primo tempo la situazione era già bella che indirizzata nel secondo tempo addirittura si iscrive al tabellino dei marcatori Bella Nova che segna il gol del 3-0 in generale è un'Atalanta che convince, io penso che l'Atalanta passerà non credo che passerà tra le prime otto, vi dico la verità ma perché ci sono comunque squadre più forti, potrebbe farlo però credo che proprio per un discorso di dare la giusta importanza a tutte le competizioni che fa per me finirà tra i 16 e i 17 punti, forse anche un po' di meno comunque un po' sotto rispetto a quelle che sono le squadre devastanti le squadre fenomenali e quindi insomma fare i playoff però credo che l'Atalanta possa essere un underdog, definiamola un underdog di questa UEFA Champions League detto questo, se l'Atalanta vince contro lo Shakhtar 0-3 il Liverpool batte il Bologna 2-0 ecco, sul Liverpool che batte il Bologna 2-0 diciamo che avevo poche cose da dire e da pronosticare di diverso a inizio partita nel senso io dubito fortemente che ci fosse qualcuno che poteva ipotizzare una vittoria del Bologna o un Bologna che faceva punti eppure devo dire che invece, e questa cosa mi ha sorpreso tanto il Bologna se l'è giocata cioè se è stato un peccato non aver segnato manco con le mani contro lo Shakhtar col Bologna che poteva fare tre punti e ne ha fatto uno oggi perdere ad Anfield ci stava ok, il Bologna e i tifosi del Bologna penso che siano contenti semplicemente uno per essersela giocata e due per essere andati ad Anfield cioè qualcosa di clamoroso però diciamo che la fortuna non sta andando dalla sua parte perché passano nove minuti segna Dalinga tra l'altro finalmente vediamo Dalinga titolare addirittura fa il pallonetto a Alisson però era di poco in fuorigioco e dopo aver visto Dalinga esultare e gol annullato passano due minuti e il Liverpool si porta in vantaggio ecco la sfiga del Bologna la sfortuna del Bologna segna McAllister vabbè giocatore clamoroso su Salah che vola via la mette dentro su sto secondo palo con McAllister che si infila e porta il Liverpool avanti per il gol dell'1-0 e da lì in poi il Bologna c'ha un botto di occasioni cioè da lì in poi voi direte vabbè ti si è diciamo scardinata la fase difensiva adesso è molto probabile che qualche golletto lo prendi e invece no e invece no perché comunque prima di tutto il Bologna c'entra una traversa con Doie Doie ragazzi stasera ha vinto il premio di calciatore più sfortunato della storia del calcio poco dopo in realtà prima c'è un'altra occasione per il Bologna anche questa molto molto importante con Moro che crossa in mezzo Orsolini che sbuca in area di rigore in di rigore e Posh non riesce a far gol e un minuto dopo addirittura Andoie prende un altro legno stavolta il palo cioè sembra proprio che la palla non debba entrare il palo di Andoie fortissimo anche lì nel senso che lui si gira in niente calcia Alisson para Alisson fenomenale tra l'altro Alisson si è fatto pure la barba fenomenale la palla va sul palo e quindi niente da fare finisce così il primo tempo ma un Bologna vivo un Bologna divertente poi nel secondo tempo devo dire il Liverpool è uscito fuori sì c'è stata quell'occasione di Orsolini però in generale per poco Froyler non se la buttava dentro da solo poi Salah ha tirato la palla è andata fuori fuori di tanto così quel tiro a giro che fa all'ora di gioco e poi a un quarto d'ora dalla fine arriva il gol del 2-0 che chiude definitivamente la partita ora magari vi dico che se il Liverpool l'avesse portata solo 1-0 fino al novantesimo magari il Bologna l'avrebbe anche potuta pareggiare però poi a un certo punto Salah dice ok la decido io fa la giocata alla Salah palla fuori palla dentro rientra calcia gol c'è poco da fare la metta all'incrocio dei pali lì secondo me poi ci sono anche le categorie come diceva Massimiliano Allegri quindi secondo me c'è veramente poco poco da fare detto questo detto questo Bologna che perde 2-0 vi posso dire però sono triste nel senso sono parecchio dispiaciuto però credo che comunque il Bologna possa ripartire dalle prossime gare perché non è una squadra brutta da vedere non è una squadra con delle problematiche è una squadra bella è una squadra divertente è una squadra che sa quello che fa è una squadra che sa giocare a pallone quindi personalmente credo che possa effettivamente provare a far punti nelle prossime gare non mi sorprenderebbe vi dico vi dico la verità arriviamo all'Ipsia Juventus cioè che cazzarola perdonatemi il francese abbiamo visto l'Ipsia Juventus che spettacolo di partita è successo di tutto tra l'altro lasciatemelo dire ragazzi c'era un rigore per la Juventus grosso come una casa io non riesco a capire come si faccia veramente io non riesco a capire come si faccia a non dare quel calcio di rigore che per me è nettissimo tra l'altro entra anche a Gambatese il giocatore dell'Ipsia ma come fai a non dare quel calcio di rigore è una follia è una follia per quanto mi riguarda è una follia domani se riesco vi faccio un day after ve ne parlo voglio parlare di situazioni di campo e di arbitrali tra la gara della Juve di oggi e il Milan di ieri cioè veramente errori arbitrali che sono inaccettabili inaccettabili a questi livelli e personalmente mi dispiace perché vai ad indirizzare in qualche modo una partita che non doveva essere indirizzata in quella direzione lì perdonate la ripetizione ma è così nel senso che comunque dai rigore alla Juventus se lo trasforma la partita si mette in un determinato modo non riesco a capire come si faccia personalmente a non dare quel calcio di rigore per me è follia per me è veramente follia detto questo è constatato ciò parliamo un attimo anche della sfiga della Juventus perché passano letteralmente 4 minuti Upenda Bremer vanno in contatto si fa male Bremer si fa male al ginocchio ma mi auguro per la Juventus che non sia un problema troppo serio perché sennò poi andranno fatte anche delle valutazioni per quanto riguarda il discorso fisico del giocatore e quanto mancherà magari nelle partite future però comunque che sfiga tremenda che sfiga tremenda e che cavolo passano 4-5 minuti dopo l'uscita di Bremer ma nemmeno e si fa male anche Nico González cioè mi fa ridere mi fa ridere in modo non non a sfottò ma mi fa ridere in senso amaro cioè ma che cazzo e si fa male anche Nico González infortunio muscolare questo in 10 minuti la Juve ha già fatto due cambi ha già tolto due slot quindi può cambiare solo a fine primo tempo mancando gli n3 oppure c'ha uno slot in tutto il resto della partita Nico González lascia il campo entra con Seisau per fortuna la Juventus si è fatta una rosa lunga questo devo devo dirlo perché poi vedete Levi Bremer metti gatti Levi Nico González metti con Seisau problemi a livello di rosa non ne hai è una rosa lunga però adesso quelli là in quei ruoli la so finiti cioè se ti si fa male anche gatti o con Seisau sei alla merda ok e quindi diciamo che non penso che un tifoso della Juve si possa definire contento della partita e di come stessi andando e come se non bastasse quindi piove sul bagnato in realtà è lì si è ad andare in vantaggio va in vantaggio con il gol di Seisau tra l'altro ho già fatto un video su Simone Sicolf sul mio canale corredato a calciosport.com e vi parlavo appunto di questo giocatore fenomenale che lo vuole la Juve lo vuole il Milan e invece segna proprio contro la Juventus tra l'altro è assurdo perché perché dopo il gol dopo i due infortuni la Juve stava giocando bene e fa sorridere il fatto che Fagioli c'ha uno spazio calcia para Gulaxi contropiede su un'occasione della Juve contropiede dell'Ipsia Gulaxi l'ha subito ad Openda Openda rientra passa a Sesco che ovviamente di Gregorio è uscito ma è nella posizione troppo tardi e l'Ipsia si porta in vantaggio ora io voglio fare grandi complimenti alla reazione nel secondo tempo della Juventus perché la Juve comunque ci ha avuto tante occasioni a parte che insomma è successo di tutto cioè hanno dato 7 nel primo tempo di recupero 9 nel secondo per tutto quello che era successo però al di là di questo la Juventus ha visto romperti i due giocatori non gli hanno dato un rigore ha preso gol su un contropiede poi ha continuato ad attaccare perché ci hanno dato occasioni Fagioli McCann Coopminers e chi più ne ha più ne metta e la palla proprio non voleva entrare ora a fine primo tempo tu entri in K tu entri negli spogliatoi con il morale sotto i tacchi con la pioggia che tisico con la nuova di Fantozzi e invece la Juventus che comunque non fa cambi nel fine primo tempo quindi vabbè a parte che cambi volevi fare avevi già fatti due però poteva anche farli perché voleva dire poi non dover fare più se non in una non poter aprire più sessioni di cambio perché ne aveva finite rientra in campo con gli sessioni 11 ed entra con una cattiveria davvero importante e davvero innata subito c'è un'occasione enorme col palo di Coopminers tra l'altro Coopminers prende pali traversi eccetera che sfiga pure quest'uomo veramente c'ha la sfiga addosso è yellato come non mai però il pareggio un minuto dopo il palo di Coop lo trovano con il gol di Dusan Vlaovic ed è un pareggio non meritato stra 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 meritato cambia caso mette sto palone al centro Vlaovic anticipa Orban gambata e la butta dentro ed è il gol del pareggio ecco da qui poi succede un macello perché succede un macello perché veramente è assurdo è assurdo quello che è successo prima c'ha un'occasione clamorosa e l'Ipsia con il palo di Openda cioè per farvi capire occasione dell'Ipsia palo di Openda poi Di Gregorio si fa butta fuori perché esce fa un'uscita un po' folle cartellino rosso per Di Gregorio qua ditemi voi se secondo voi quello era secondo voi rosso oppure no e la Juventus che fa ragazzi deve fare l'ultimo cambio perché non ha più un portiere e quindi è l'ultimo slot cioè voi non so se vi rendete conto la sfiga che ha avuto la Juve in questa partita cioè gli è successo di tutto rimane in dieci uomini su un campo difficile come quello dell'Ipsia dopo due giocatori deve togliere Di Gregorio leva Ildiz mette Perin nel frattempo butta dentro anche Douglas Ruiz che era l'ultimo cambio che poteva fare quindi tutti gli altri non poteva farli ecco detto questo Xavi Simons batte la punizione Douglas Ruiz appena entrato tocca il pallone col braccio calcio di rigore cioè veramente è una cosa ragazzi io penso che io penso che non so manco che raccontarvi non so manco che raccontarvi calcio di rigore dal dischetto Vassesco trasforma 2 a 1 e io lì ho detto vabbè ragazzi e allora la Juve con un uomo in meno con due infortunati calcio di rigore tra l'altro provocato da quella suizia che cazzo è entrato da un minuto e mezzo cioè qualcosa di clamoroso allora ve lo meritate non ve lo meritavate ve lo dico la verità però ve lo meritate nel senso cioè pure voi aiutati che Dio è stata aiuta se dice e invece non mi pare che la Juventus si stesse aiutando fatto sta che però un minuto e mezzo dopo Vlaovic era in una serata clamorosa ragazzi clamorosa prende sto pallone calcio di Mancino Kulaxi non può nulla 2 a 2 a 20 dalla fine la Juventus la pareggia da quel momento in poi la Juve deve cambiare anche idea di gioco aveva scelto due giocatori per fare la partita e gli sono stati entrambi tolti per infortunio ve l'ho detto è senza portiere con un uomo in meno e l'Ipsia c'entra un palo con Openda quindi anche lì tira così dal niente devia Calullo la palla prende il palo però guardate ogni tanto anche un colpo di culo ci può stare con Seisau che è entrato al posto di Nico González riceve pallone da Fagioli supera Erics calcia in diagonale gol del 3 a 2 a 7 8 9 minuti dalla fine quindi a una decina di minuti dalla fine una cosa ragazzi clamorosa e la Juventus vince 3 a 2 al Ipsia ragazzi questa è la partita della vita cioè questa è la partita della vita è clamoroso questo è veramente clamoroso ve lo giuro questo è veramente io non ho capito quello che è successo è stato qualcosa di pazzesco la Juve vince contro le interperie contro tutto gli manca un rigore gli danno un rigore contro l'espulso di Greg Portiere meno male ha finito i cambi costrettamente gli si sono rotti due giocatori due arte sotto veramente assurdo eppure partita divertentissima 5 gol 3-4 legni un rigore non dato un rigore però la Juventus alla fine vince e in questo caso sarebbe riduttivo pure dire con vince nel senso che se vince questa partita qua devono fare una statua ed è in questo momento l'unica italiana in generale lo è perché ci mancherebbe altro che si aggiudica la seconda partita di fila la vittoria col PSV 3-1 poteva essere una partita comunque che era bella da vedere la Juve sicuramente però comunque non dava le risposte adatte questa partita qua questa partita qua ha dato veramente delle grandi risposte io ragazzi volevo dire l'ho detto fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace e noi come sempre ci vediamo un prossimo video ciao